1, 2, 3, 4, can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10, I love you Doni, si inserisce ancora Panucci, lo va a prendere Molinaro, subito il cross di Panucci, va alla sottoporta, palo Parte del Piero, va alla sottoporta, Chiellini, Doni, non è finita Molinaro, può andare alla cross, pallone che si impenna, mette fuori Quan Si provò Molinaro, grande forcata, prova a prendere in velocità Panucci, che non lo tiene, Molinaro, va al traversone, Amauri, Marchionni In breve la rincossa di Del Piero, ha fischiato Rizzoli, parte Del Piero, Del Piero, rete, rete, un gol ancora più bello rispetto a quello allo Zenit Apertura della portoghese, pallone perfetto per Amolinaro, applausi per Tiago, una novità Del Piero Del Piero porta palla, allarga testa per Marchionni, che arriva puntuale, il cross di Marchionni, Amauri, Doni Pallone di Nedvede per il lacrimino della Juve, scattata Amauri, Del Piero, zona tiro, Del Piero allarga per Marchionni, che arriva a rimorca Marchionni, in area Marchionni, rete, rete, Marchionni, un gran gol Del Piero, Molinaro L'assisto di Molinaro a cercare Amauri Immobile Doni, palla di poco fuori, grande avvio di secondo tempo anche di Amauri Si propone Del Piero, le finte di Marchionni, sovrapposizione di Grieghera, palla per il cieco, il cross di Grieghera, deviazione, pericolosissima, ma comunque efficace di Guano in calcio lante Defende il pallone Del Piero, Pisano non lo molla, si gira bene Del Piero, dentro per Amauri, in area, Amauri porta il tiro, Doni Game over all'Olimpia di Torino, una grande Juve, supera 2-0 la Roma Un gol, un assist, una grande risposta Sì, un altro passo, un altro passo, non dobbiamo essere soddisfatti, lo dicevamo prima della gara, dobbiamo dirlo ancora adesso Però un altro bel passo contro la Roma, che si è dimostrata comunque una squadra forte, che magari ha qualche problemino, però forte, quindi siamo molto soddisfatti Ci sono stati anche belli applausi, perché ci sono buone prestazioni di gente, se vogliamo delle seconde linee, chiamiamole così, o di gente che aspettavamo, come Molinaro, come Tiago, da capitano, questo è importante È importante, è importante, sì, la gente che ci appoggi sempre, anche quando le cose non vanno benino È importante che noi dimostriamo carattere, voglia di primeggiare, voglia di vincere, iniziativa Queste cose sono cose importanti, sia per la squadra, che anche per la gente, secondo me, che vede spirito giusto Grazie